ciao ragazzi eccomi qua allora nuovo video sui miei regali di compleanno sono pochi perché già ve l'ho anticipato in un altro video che registrano anzi che ho già registrato scusate sono un po fusa dalla palestra che ho fatto oggi comunque non voglio andare fuori tema questo è il video dei miei regali di compleanno dei miei regali di compleanno avete fatto bene solo pochi ma buoni altri già per poter vedere sono acquisti barra regali compleanno velenco la scheda qui da questa parte qui non so dove sono qui o qui degli acquisti tra zara e cinesi perché non sono solo acquisti sono anche reale comunque stringiamo questa è la busta da qua e questo è i regali miei di compleanno che ovviamente me la fattiglia ma di rossi e testo video ciao un progetto tutti su istana perciò andate anche sul mio easter come youtuber melania trattino basso 8 ma dopo anzi il meglio poi procedere subito ma allora questo non so cosa si vedrà vedete una questa qua questa questa qui è una sorta di roll on color non come si chiama di massaggiatore viso in quarzo rosa perfetto buonissimo questo essere buono perché ti aiuta con insomma per fare la skin care sarebbe top fenomenale mi piace poi cosa abbiamo qui allora delle belle dove sto mettendo di qua di qua ok delle spugnette in come si dice in non lo so come si chiama spugnette spongebob spugnette per il trucco il trucco che adoro sono veramente molto belle a vedere vedete già poi a questo è stato un bel pensiero apprezzato allora qua c'è crema mani perché già ho spirciato una crema mani 23 mani anzi vedete già eccoci qua non so cosa si possa vedere crema mani crema mani crema mani crema mani crema mani crema mani che ovviamente qua dentro non la apro la faccio solo vedere il tubetto vedete eccola qua già poi 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 qua c'è no le sto prendendo l'incontrario come parte sempre io ogni tanto per l'incontrario allora c'è qua una maschera viso tutto quasi al cocco questa questa spatola di qua questa questa è con acqua di attivo attivo di cocco mousse detergente attivo di cocco laba viso con acqua attivo di cocco dalle proprietà nutrienti ed emuliente usata usata acqua quotidiana mette rimuove la impurità mantenendo il normale livello di idratazione poi crema viso idratante con l'acqua di attività di cocco con un complesso idratante arricchito con acqua attivo di cocco dalle proprietà nutrienti ed emulienti che usato quotidianamente ripristino normale livello di idratazione di idratazione della cute ok applicare una piccola quantità di prodotto sul viso dette già effettuato effettuando dei massaggi circolari vabbè intanto già lo faccio solo per uso esterno tenere fuori a posto che non vedevano partiamo capito che tutti ingredienti che fosse interessato ingredienti quello qua non si vedrà male ma ci provo per vedere eccolo qua si vede qualcosa sì ecco qua e per questo è una maschera il tessuto eccolo qua maschera il tessuto non so cosa si possa vedere si vede qualcosa si spero ma si può vedere se non so cosa sta facendo vedere aspettato sul fondo ragazzi poi quando è il posto di prezzo riguardo cosa sta passando perché sinceramente non lo so questo qua questo questo è il cocco beauty beauty routine dette gente con acqua attivo di cocco 100 ml di prodotto poi c'è questo dovrò rimessere questo qua coccolute crema per il visino mio ancora qua e poi inoltre cosa c'era qua la mia bella gendina che non guasta mai per leggere scrive qualcosa bene ragazzi questo era tutto io vi ringrazio dell'ascolto ci vediamo prossimo video grazie a tutti scrivete e attivate la campanella mettete un bel like e di supporto ciao a presto un bacio